Si rinnova anche quest'anno l'evento Un albero per ogni innato a Castellabate. La cerimonia si svolgerà presso Villa Matarazzo il 7 giugno e vedrà la piantumazione di un albero per ogni neonato del comune di Castellabate. Un albero per ogni innato nasce da una legge regionale del 92 che ha consentito la possibilità ai comuni di donare per ogni bambino nato nell'anno solare di donare a questi bambini un albero da piantare e da curare al fine di migliorare anche l'ambiente e quindi garantire la tutela di esso. L'iniziativa si svolgerà come tutti gli anni nel mese di giugno, quest'anno il 7 giugno, sempre nel parco di Villa Matarazzo. Verrà allestita chiaramente la location per ospitare i nostri piccoli amici che riceveranno il proprio albero. Quindi saranno invitati attraverso una lettera scritta tutte le famiglie al fine di raggiungere tutti ed essere tutti presenti per questa grande festa e dare il via e fare una sorta di accoglienza nella società. Rispetto all'anno scorso c'è stato un incremento delle nascite? Purtroppo no, devo dire che rispetto al 2017, il 2018 diciamo che è stata un'annata un po' più scarsa riguardo alle nascite e quindi insomma si è avuto un decremento delle nascite. Auspichiamo chiaramente che invece il prossimo anno sarà ancora più florido. Grazie. Grazie. Grazie.